Icon palestre a Montesilvano il nuovissimo centro fitness in via Ruffilli 1 Icon palestre aperto sette giorni su sette con Icon palestre avrai tutto il fitness che vuoi da soli 19,90 euro al mese Hawaii viaggi e vacanze di Anna Bruna Gianzante via Gabriele d'Annunzio 70 Villa di Cepagati Pescara buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio Angela buon pomeriggio Giulio a tutti i radioascoltatori oggi vi racconto per l'ultimo dell'anno le usanze di capodanno delle simpatiche curiosità dal mondo dunque la notte del 31 dicembre una notte molto speciale magica e a tradizioni diverse in tutto il mondo vi stupirete di quanto alcune siano particolari anche molto simpatiche ripercorriamole insieme in questi giorni di fine anno ripartendo dalla Spagna nella nostra carrellata di usanze di capodanno lì si usa nello scoccare della mezzanotte di mangiare 12 acini d'uva quanti rintocchi dell'oroggio della Puerta del Sol di Madrid in Germania ci si maschera come se fosse carnevale e si brinda con una bevanda detta della fraternità a base di rum vino rosso arance cannella e chiodi di garofano nelle regioni protestanti per far passare la cosiddetta sbornia ci si accompagna il tutto con pesce affumicato in inghilterra durante il cenone si mangia tacchino ripieno e si aspetta il big bang che scocchi con 12 rintocchi l'arrivo dell'anno nuovo e poi magnifiche luminarie dal londonair avvivano tutta londra in irlanda succede una cosa alquanto bizzarra la notte di capodanno si bussa per le case con pagnotte di pane in mano in danimarca poi si distruggono le stoviglie essi è usanza a rompere tutti i piatti e i bicchieri di casa in grecia san basilio porta i doni e bambini ed è tradizione che ogni ospite che entra in casa deve rompere un melograno più chicchi cadranno più fortuna si avrà in russia festeggiano due capodanni quello del 31 dicembre quello del 13 gennaio del calendario giuliano al dodicesimo rintocco le campane si spalancano le porte delle case per far entrare l'anno nuovo in piazza rossa ci sono concerti e fuochi pirotecnici in giappone si celebra la festa dell'anno nuovo facendo grandi pulizie di casa in cina il capodanno è la festa della primavera ci si veste di rosso e dura 15 giorni in sud america invece ci si veste di giallo colore della luce i fuochi più grandi del mondo si fanno a dubai e in abruzzo viva ancora oggi in abruzzo la tradizione che se una donna non sposata si guarda in uno specchio a lume di candela lo scoccare della mezzanotte troverà marito più sacra invece la tradizionale recitazione in chiesa del canto tedeum e con queste belle usanze e curiosità non mi resta che augurarvi tutti buon anno e felicissimo anno nuovo un abbraccio a tutti manuela prosperi